benvenuti a tutti e buon natale oggi è il 25 25 dicembre si è natale 25 dicembre 2018 benvenuti tutti nel canale chef tronchicin dopo il pranzo natalizio che il mio è stato molto soft la fase di lenticchie e zamponi infatti diamo il sorella di cui abbiamo anche una diapositiva se volete vediamo se la troviamo eccola qua vedete mi sono sparato questi niente oggi a grande richiesta indovina cosa andrò a fare tada whatsapp cos'è whatsapp whatsapp è un'applicazione messaggistica istantanea molto in piattaforma creata nel 2009 siamo nel 2019 anni mi chiedono come ho fatto a vivere senza sto benedetto whatsapp e lo stesso non è che però per esigenze chissà cosa installamo oggi è natale bisogna essere buoni quindi installiamo direttamente su whatsapp sto famoso whatsapp e ve lo faccio anche in diretta se ho qualche sostegno da qualche parte vediamo se vi posso appoggiare qua almeno vedete proprio in diretta whatsapp vediamo se c'è una stabilità sto appoggio sì che c'è una buona stabilità va bene dicevamo che whatsapp vediamo nel 2009 è nato nel 2009 poi ha registrato un miliardo 1,3 miliardi di utenti mensili e un miliardo di utenti ogni giorno è 2017 questo anche un bel giorno si sveglia un certo mark zuckerberg nel 2019 a 19 e se lo acquista per la modica cifra di 19 miliardi dico miliardi di dollari quindi da oggi in poi avrai un utente in più che noi penso non se ne accorgerà mark zuckerberg ma andiamo a vedere andiamo su allora play store questi sono momenti concitanti vediamo come si chiama whatsapp e whats app messager installiamo installiamo e vediamo se installandoci l'accordo dopo l'acquisto di mark zuckerberg per chi non lo sapesse era di installare il programma senza pubblicità e poi è uscito successivamente anche il sistema per pc che andremo anche noi installare siamo in fase di installazione come potete vedere ci fa apri vediamo se mi arrivano i 3 miliardi di messaggi accetta e continua allora per connettere di facilmente con amici parenti pure e via rinviare forza consenti whatsapp continua consenti 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 o il numero cellulare mi chiedono io lo lasciamo al volo avanti e quindi quindi messaggi non si useranno più verificheremo che il numero tuo è corretto ok inserisci i codici a 6 cifre che ti arriverà e vediamo come arriva eccolo ci metto un troncicino ma il numero si cifre mi sa che ho saltato qualche operazione andiamo a vedere inizio chat ora che 277 sono su whatsapp vabbè c'è lo stato tocca per giornale lo stato le chiamate e chat vabbè abbiamo installato io penso che non sono tutto intero sempre io codice whatsapp codice whatsapp puoi anche toccare link vabbè quindi vabbè proviamo un whatsapp veloce vediamo un po whatsapp lo dove lo trasferiamo lo trasferiamo al posto del call blacklist call blacklist lo mandiamo qua e whatsapp lo spostiamo alla schermata principale ecco va mi piace come splendido whatsapp adesso lo clicchiamo su e proviamo a fare un messaggio vocale come si fa abbiamo chat stato poi condividi con i tuoi contatti chiamate per iniziare chiamate i contatti e canno whatsapp tocca della cornetta ok tocca della cornetta vediamo chi mandiamo messaggio vocale così per chiamare consenti whatsapp c'è dal microfono continua consenti ho sbagliato va bene stato attenzione messaggio vocale senza price ho capito ho capito pin e quando ci vediamo mi spiega pure l'estate che se non finimo più e maniamo whatsapp chiamate chat inizia una chat oh vediamo così no ciao sto usando whatsapp che mondo difficile ebraica è un mix cui ho trammesso ogni prima volta vediamo qui cosa dicono piuttosto che normale ho scelto di e come si fa vedere tutta la frase ho scelto di essere felice ecco poi bloccare anche gli utenti lo riapriamo che ancora non io ho messaggio allora iniziamo con la chat nuovo contatto nuovo gruppo ci sono i gruppi che non vi dico niente però guarda che si è sincronizzato c'è 280 contatti quindi non è che tutta sta gente proviamo a scrivere al mio fratello vediamo un po' un due tre prova pur io ho whatsapp rispondimi sentiamo di nuovo i messaggi inviati con questa chat loro protetti a crittografia addirittura un due tre prova pur io ho whatsapp rispondimi doppia flag significa che ha letto ha ricevuto secondo messaggio whatsapp allora mi devi preparare il cellulare tanto va a finire il prossimo anno con scatola scontrino e tutto il resto che proviamo a venderlo a qualcuno altro messaggio una spunta due spunta due spunte che è arrivato due spunte blu che ha letto che l'ha sentito infatti eccole qua le spunte guardate le spunte voi tenete non è una vita che ce l'abbiamo però vabbè io vediamo un po' altri che possiamo cercare ho tornato il chat aspetta che facciamo buon natale da whatsapp sentiamo cos'è buon natale da whatsapp vediamo ancora indovinate chi c'è su whatsapp che bello mi sto divertendo con poco vediamo vediamo infatti ci sto a fare un video per essere un evento grosso va bene ragazzi 10 minuti sono terminati whatsapp l'abbiamo installato spero di non disinstallare al più presto mio fratello mi ha risposto? guarda che mi poi pure risponde non è che se ha controllato la cia passo e chiudo c'è tutto illimitato 3.000 giga 10.000 minuti miliardi di secondi fammi ciao almeno va bene oh straio pensavo che mi arriva tutti i messaggi del passato vediamo poi altre cose whatsapp che possiede lo stato non ci scrivo niente ho stato aggiornamenti recenti ci ha scritto stato niente qui c'è le chiamate le foto consente o da consenti va bene ragazzi il video termina qua buon Natale a tutti di nuovo whatsapp l'abbiamo installato lasciamo un po' così tanto per di nuovo buon Natale a tutti e tante belle cose per questo nuovo anno che sta arrivando in partenza che ti operano 5-6 giorni ciao Dolce andiamo a vedere se come funziona per il desktop andiamo a vedere buuuu ciao